Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Un tragico lutto ha colpito la musica italiana. È morto il celebre cantante Arthur Miles. Il pubblico italiano lo ricorda per la sua indimenticabile partecipazione alla trasmissione di Rai 1, The Voice Senior Italy, dove ha conquistato tutti con la sua emozionante interpretazione del brano What a Wonderful World, di Louis Armstrong. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata sui social dalla sua compagna Christine, lasciando un grande vuoto nel cuore di molti fan e amici. Arthur Miles, nato a Indianapolis nel 1949, aveva una carriera musicale che abbracciava decenni. Fin da giovane aveva mostrato un talento straordinario, partecipando a numerosi festival musicali prestigiosi in Italia e apparendo in diverse trasmissioni televisive. La sua voce unica e la sua presenza scenica avevano fatto di lui una figura amata nel panorama musicale italiano. Miles aveva scelto da tempo di vivere in Italia, stabilendosi a Orsenigo, nel Comasco, dove era diventato un membro apprezzato della comunità locale. La cerimonia funebre si terrà venerdì alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Orsenigo, dove amici, familiari e fan potranno dargli l'ultimo saluto. Oltre alla sua carriera televisiva e ai festival, Arthur Miles era conosciuto per le sue numerose collaborazioni con artisti di fama internazionale e per i suoi contributi alla musica soul e jazz. La sua morte rappresenta una grande perdita per il mondo della musica, ma il suo ricordo e la sua musica continueranno a vivere nei cuori di chi lo ha amato e ascoltato.